Riattivare la storica tratta ferrata sicignano Lago Negro, ipotesi troppo onerosa rispetto agli ipotetici vantaggi che potrebbero derivarne. E' quanto emerso nel corso dell'incontro con i sindaci promosso dalla comunità montana Vallo di Diano, presieduta da Francesco Cavallone, con i tecnici di RFI per dare risposte alle sollicitazioni che arrivano dal territorio, in riferimento alle richieste di riattivare l'antica tratta di smessa nel 1987 con funzione di collegamento con la possibile stazione dell'alta velocità nel Vallo di Diano. Alla presenza di un gran numero di sindaci del Vallo di Diano e degli esponenti regionali, quali l'assessore ai trasporti Luca Cascone e i consiglieri Corrado Matera, Andrea Volpe e Tommaso Pellegrino, i tecnici di RFI hanno illustrato il progetto di fattibilità per il ripristino della Sicignano Lago Negro, quale linea commerciale, finanziato dalla regione Campania per 1.700.000 euro. Secondo quanto spiegato, il costo per l'effettuazione delle opere si aggirebbe intorno ai 750 milioni di euro, con i costi maggiori che sarebbero sostenuti per i due tratti a nord e a sud della linea ferroviaria e precisamente nei tratti da Sicignano a Polla e da Montesano a Lago Negro. Un costo derivante prevalentemente per le opere di rifacimento di ponti, gallerie da mettere in sicurezza, sostituzione di traversine, realizzazione di sottopassaggi, riqualificazione dei binari e numerose altre opere necessarie. Inoltre dai tecnici è anche stata evidenziata la modifica dei tempi in cui era attiva la tratta ad oggi dello stato urbano dei territori interessati dal passaggio della ferrovia ed anche dalle normative vigenti in materia di sicurezza. Il passaggio del treno lungo la tratta di smessa imporrebbe un notevole rallentamento della marcia del convoglio con un allungamento dei tempi che sarebbero anche superiori ad un eventuale trasporto su gomma, rendendo quindi poco agevole e vantaggioso ricorrere al treno per effettuare i collegamenti tra i vari centri. Dunque costi elevati per vantaggi ridotti. Nel corso dell'incontro si è registrato un breve passaggio anche relativo alla nuova tratta dell'alta velocità non da parte dei tecnici di RFI ma da parte dell'assessore regionale ai trasporti che ad un certo punto ha utilizzato il condizionale per ciò che riguarda il percorso della nuova linea mettendo in forza anche l'ipotesi di un cambiamento del percorso che possa raggiungere Sapri anziché Praia. Un'ipotesi che ha visto scendere in campo il golfo di Policastro impegnato con forti pressioni su politici di ogni schieramento e ad ogni livello per riuscire ad ottenere anche la fermata a Sapri. Laddove ciò si avveri resta da chiedersi, alla luce anche delle dichiarazioni del vicepresidente della provincia di Salerno, cosa ne sarà dell'ipotesi stazione dell'alta velocità nel Vallo di Diano. La comunità montana a tal riguardo si è già attivata per tutelare gli interessi del territorio.